Uomini e donne, tra i corteggiatori di Francesca parte la sfida a chi è più uomo L'esterna con Francesco ha suscitato la dura reazione del corteggiatore campano che ha attaccato il rivale per aver, a suo dire, elemosinato baci e abbracci alla Tronitz Francesco mi ispira sincerità, sento che mi posso fidare. Sembra essere nata sotto una buona stella la conoscenza tra Francesca e Francesco I due sono usciti in esterna e la complicità era palpabile ma ai gesti del corteggiatore, del chiedere un bacio, una carezza sono stati motivo di frizione a centro studio con il rivale Paolo Francesco ha confessato alla Tronista di trovarsi bene con lei e di essere alla ricerca di una persona che si prenda cura di sé Un'esterna molto fisica commentata da Paolo come un momento carico di bambinate per il fatto che Francesco abbia chiesto, per rispetto alla Tronista, di poterle dare un bacio, tanto da definirlo un non uomo Ha elemosinato baci e abbracci. Ho fatto due esterne e non ho elemosinato niente io, ha riferito Paolo Voglio capire come fai a definire una persona uomo se bacia una ragazza? Ha risposto infastidito Francesco Affermazioni che non sono piaciute a Francesca che ha subito zittito Paolo Non mi piace il suo modo di pensare, ha confessato Francesca a margine della puntata, che trova delle bambinate, il 50% della mia vita è basato sul gioco, sullo scherzo se per lui questa è una bambinata è un bel problema Grazie a tutti Grazie a tutti